Ciao ragazzi, adesso andiamo a fare un nuovo allenamento dedicato all'interna coscia con nostra total body crunch. Allora, per fare l'interna coscia che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo divaricare i piedi sul pedale, anziché frontale apriamo, appoggiamo più o meno l'arco centrale, l'arco plantare, divarichiamo le punte e vedrete che le genocchie si divaricano. Ok, allunghiamoci poco poco, spinta e quando vengo su, io voglio che schiacciate i glutei e schiacciate l'interna coscia, come se avessi una nuvola, un pallone di aria gonfiabile tra le cosce che stai provando di stringere tra talone, polpaccio e interna coscia. Noi dedicheremo tutto questo allenamento alla nostra interna coscia, perché le cose belle del nostro total body crunch è che dipendendo da dove decidiamo di applicare la forza, tirando, trainando o spingendo con le gambe, avremo un risultato. Spingo e scendo e andremo a fare circa 10 minuti del lavoro. Spingo intorno, spingo intorno. Ci sono diverse persone che dicono che il total body crunch allena gli abdominali. No ragazzi, non ti allinei gli abdominali, perché? Perché i nostri abdominali ci fanno chiudere frontale, così. Questo è l'abdominale. Invece qui è una trazione, spinta con le gambe, traino con le braccia, così lavoriamo la parte inferiore del corpo e la catena cinetica posteriore del corpo, così. Sempre importante è, non vi fissate, dicevo, volevo fare l'abdominale, allora facciamo l'abdominale dopo, magari a corpo libero, o con un over plank, o con un trampolino, però ogni attrezzo genico ha il suo pro e andiamo a concentrarci su questo pro. Continua a stringere sull'interno coscia, tenendo comunque gli abdominali tesi e siamo già a minuto e mezzo, 90 secondi di lavoro e vedi per fare 10 minuti quanto vola via il nostro allenamento e ci permette di allenare bene, completamente, perché questo è un lavoro aerobico resistente. Perché resistente? Perché non siamo sciolti, non stiamo facendo la corsa senza coinvolgere le braccia, stiamo utilizzando le gambe che servono per entrare in un contesto aerobico, ma stiamo aiutandoci anche con le braccia che aumentano l'intensità, sentirai il battito cardiaco che si aumenta e continuiamo ad andare a rassodare, perché spingendo con le punti divaricate, quella zona molto critica di tutte le donne, l'interno coscia. Si diventa quella che si chiama a un certo punto la lacrima. Che cos'è la lacrima? La pelle che si svuota un po' con la sarcopenia, un po' con l'età, un po' con la lassità cutanea e trovi che l'interno coscia un po' ti abbandona. Invece, perché è difficile fare l'interno coscia durante l'arco della giornata, tranne se è una cavallerizza, se è qualcuno che va a cavallo dalla mattina alla sera, allora diventa difficile a, diciamo, tonificare quella zona. Invece, facendo un bel dieci minuti dedicato all'interno coscia con il nostro Toto Body Crunch, vi garantisco che avrà i risultati, yeah, sì, sì, sì. Poi se voglio utilizzare Dermoroller per la pelle, una Body Renew per la pelle, assolutamente sì. Non dimenticate anche la cupping e non dimenticate anche Be Good, perché il nostro dermofibra aiuta sempre a tonificare la pelle. E poi, mi piace chiacchierare per farvi passare il tempo. Quanto tempo? Siamo già a tre minuti, ci mancano solo sette minuti. Vedi, così possiamo raccontarci, lavorare insieme e spingere sull'interno coscia, vai. And spingi. Adesso aggiungiamo anche un po' più di braccia, ci siamo fatti il nostro riscaldamento. Pompiamo con la punta di varicate, schiacciamo. Cioè, devi completare il movimento, completi e scendi, schiaccio e scendi, schiaccio e scendi. E vedi, puoi sempre aggiungere più braccia, stendere più il corpo, porti la schiena indietro, schiaccia l'interno coscia uno contro l'altro, fallo per dieci minuti. Scatati le foto prima e dopo. Poi ci parliamo, fra quattro settimane, come ti cambia le vostre gambe. Se lo fai due volte a settimana, non lo devi fare tutti i giorni, ma due volte a settimana può essere molto, molto efficace darvi risultati. Abbiamo anche la possibilità di vedere quanti conteggi o quanti voghe verticali facciamo in un lasso di tempo. Magari dici, ok, faccio dieci minuti e mi prendo un diario, un diario di allenamento. Diario di allenamento e dico, venerdì di maggio, in dieci minuti ho fatto x voghe, no? Mille voghe, cinquecento voghe, quella che sia, e poi andrai avanti e poi noterai che a meno che diventi più forza, la voglia diventa più veloce. Posso aumentare l'intensità in diverse maniere, ok? Aumento perché amplifico il raggio del movimento, questo è il modo per aumentare l'intensità della voga o altrimenti velocità. Boom! E' in due, e' in tre, e' in quattro, e' in cinque, sei, sette, otto, ancora dammi dieci, nove, otto, le punte sono sempre divaricate, ancora, e' in quattro, e' in tre, e' in due, e' in più lento, vai! Dai ragazzi, siamo a cinque minuti, siamo al metà strada. Metà strada, perché non sto facendo altri esercizi? No, perché è un lungo, un lungo. L'interno cosce ha bisogno di essere stancato, non voglio cambiare tra gamba o altri esercizi, no, voglio che veramente concentrate la voga. Spingo con le gambe, spingo con le gambe, ancora per trentacinque secondi. Poi andremo di nuovo in velocità, andremo anche in ampiezza, cioè chiuderemo di più le braccia, ma non ancora, ancora quindici secondi, e voglio un minuto della massima della tua intensità, massimo della spinta con le gambe, massimo con la chiusura con le braccia, massimo voga, tre, and' due, mi date il minuto di massima intensità, su, scendo, su, scendo, su. Io per esempio noto che talmente scendo ogni tanto ritorno sul perno di partenza, va bene, provi a trovare la giusta leva, vai, spinta, porta le spalle indietro, bacino in avanti, schiaccia l'interno cosce, taloni insieme, polpacci insieme, interno cosce insieme, voga. Bravi ragazzi, ci siamo, sto provando a vedere, siamo ancora trenta secondi, massima voga, massima voga, boom, vai, boom, and vai, io non so voi, sto sentendo il lavoro e sto sentendo le braccia, cosa molto, molto, molto soddisfacente perché le braccia tornite, toniche e forti, rassodate, sono belle da vedere, socialmente se ci avete. Ok, minuto è andato, ok, continuo la voga, con un po' di recupero, vi do trenta secondi, trenta secondi di scatto, trenta secondi di recupero, trenta secondi di scatto, finché arriveremo ai nostri dieci minuti. Quello che voglio da voi è, bel respiro, se è necessario, se sentite che è necessario, ti fermi, ok, ovviamente, non esagerare se ti sto esagerando troppo. E poi, se sentite che, tirando così tanto con le mani, sentite che le mani si possono magari stancare, mettete un guanto, ok, vai, trenta secondi, tiro, vai, vai, oh yes. La voga è tanta roba, ragazzi, perché la voga, convolgendo anche le braccia, ti fa bruciare più calorie. La corsa, non uso le braccia, ho poco le braccia, ok, se sto su un tapirulan, mi concentro sulle gambe, mi concentro sull'inclinazione, sulle velocità, ma le braccia sono abbastanza libere. Invece, le biciclette, idem, invece quando siamo sul nostro total body crunch, ok, relax, trenta secondi, respiro, non voglio, io voglio solo time, vediamo se riesco a arrivare solo time, perché fra dieci secondi dobbiamo ripartire, siete pronti? eccoci qua, ecco, vai, trenta secondi, abbiamo quasi finito, siamo otto minuti e mezzo di lavoro e io sono certa che sentite il lavoro, lo sto sentendo io, sto sudando, sento più le braccia su che le gambe, così, gambe, gambe, spingi e stendi, spingi e stendi, le gambe ovviamente sono più forti della braccia normale, sentire le braccia prime delle gambe, tre e due e trenta secondi, relax, su e giù, respiro e scendo, respiro e scendo, ottimo, poi avremo un scatto di trenta secondi per chiudere in bellezza questo allenamento dedicato interamente all'interno coscia con il nostro total body crunch, mancano dodici, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, voga ragazzi, vai, oh yeah, vai 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 vai, su su su, continuate, mi avete chiesto allenamenti, io assaudisco i vostri desideri, mi avete chiesto, la facciamo insieme, belle 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 forti, molto molto attenti nel nostro lavoro, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and relax, ok, voga poco a poco, ricuperiamoci, dieci minuti lavoro e sentirete la stanchezza, se volete ripetere questo allenamento, spingi proprio play, repeat, fate un altro dieci minuti così diventano 20 minuti totalmente dedicato al nostro interno coscia e vi aspetto sempre qua sui miei canali per darvi info, tutorial, allenamenti e motivazione per ogni giorno diventare il massimo di te stesso. Bacchi dalla Jill e vi aspetto sempre per novità. Vieni a scoprire il mio mondo su gilcooper.it